Negli ultimi giorni si è parlato molto dell'aggressione al centro commerciale di Assago. Un uomo di 46 anni ha ferrato un coltello e ha aggredito le persone presenti, riuscendo anche a ucciderne una. Ma l'aspetto che più di tutti ha sconvolto l'opinione pubblica è stato il movente riportato dall'assassino per giustificare questo suo gesto. E il movente è stato Io ho visti felici. Ho visto le altre persone felici e ho deciso in quel momento di aggredirle. Questo è solo uno dei diversi casi di cronaca che negli ultimi anni hanno avuto come centro, come fulcro della propria dinamica l'invidia sociale. E in questo video voglio proprio parlare di invidia. Come nasce l'invidia? Se c'è un'invidia positiva o l'invidia è sempre negativa? Quali sono le possibili strategie che possiamo applicare per cercare di ridurre questa invidia qualora la sperimentassimo in modo frequente e forte? E per limitarne gli aspetti negativi sulla nostra vita e su quella degli altri? E infine cosa si può fare a livello di società per cercare di prevenire crimini come quello avvenuto da Sago? Si può effettivamente fare qualcosa oppure sono casistiche che sono in qualche modo imprevedibili? Prima di rispondere a tutte queste domande però lasciatemi due secondi per spiegarvi come supportare il mio lavoro se ne avete voglia. Il primo ovviamente è lasciare un like a questo video se vi piace l'argomento e se vi piace il contenuto. Dopodiché in questo periodo sto cercando di costruire una solida community su Patreon e per cercare di convincere quante più persone possibili a unirsi ho deciso di creare settimanalmente dei podcast su temi di attualità, su temi di crescita personale e in generale su tutto ciò che vi interessa. Ovviamente inerenti alla mia sfera di competenza, ovvero alla psicologia. Grazie davvero a tutti quelli che già lo fanno, tutti quelli che mi supportano sia su Patreon ma anche su Twitch se volete darmi una mano vi lascio tutto in descrizione. Ok, partiamo con il video. Quali sono gli altri crimini che mi sono venuti in mente, gli altri casi di cronaca che mi sono balzati alla memoria dopo che ho assistito agli eventi di Sago? Ve ne cito altri due in particolare, molto recenti, avvenuti entrambi negli ultimi anni. Il primo dei due accadde nel 23 febbraio 2019, ai Murazzi, a Torino. Stefano Di Leo, un ragazzo di 33 anni, sta camminando in quella zona quando a un certo punto viene aggredito con un coltello alla schiena e viene ucciso. Il killer è un ragazzo di 27 anni che giustificherà il proprio gesto sostenendo di aver visto Stefano felice. Ecco, vedete, ancora una volta ricorre questa motivazione. E questo stesso identico movente è stato riportato anche da Antonio De Marco, un ragazzo di 22 anni che nel settembre 2020 ha brutalmente ucciso una coppia di giovani poiché era invidioso della loro felicità. Quando ci troviamo di fronte a tre casi così estremi, così brutali, così assurdi, che avvengono nello spazio di pochi anni e che alla base hanno la stessa motivazione riportata dai tre killer, io credo che sia importante cominciare a considerare questo tipo di eventi non come dei casi isolati, ma al contrario, incominciare a interpretarli come degli eventi che nascono, che scaturiscono da una condizione psicosociale che sembra essere sempre più diffusa. Attenzione, cercare di capire le cause che stanno alla base di un gesto criminale non significa in alcun modo giustificare questo gesto. L'omicida dei Murazzi ha ricevuto 30 anni di galera, quello di Lecce l'ergastolo e sono sicuro che anche l'aggressore di Assago riceverà una pena molto severa da questo punto di vista. Perché è severo che in molti hanno parlato di problemi di tipo psichiatrico dietro questo gesto. In realtà, dalle ricostruzioni degli eventi e dalle testimonianze dei familiari, quest'uomo di 46 anni non aveva mostrato fino a quel momento degli evidenti disturbi psicopatologici. O meglio, non aveva mostrato delle alterazioni nella percezione della realtà. Questo ci deve portare a pensare che il gesto criminale a cui abbiamo assistito da Assago, ma anche gli altri di cui vi ho parlato precedentemente, sono stati compiuti da persone che erano pienamente capaci di intendere e di volere. E proprio per questo sono state condannate. Quindi continuare a derubricare questi casi come dei gesti di persone folli che a un certo punto impazziscono e decidono di fare quello che hanno fatto, non ci porterà da nessuna parte. Magari ci aiuterà a allontanare la nostra percezione di somiglianza tra noi e loro. Ma in realtà non è così. Parliamo di esseri umani che hanno compiuto dei gesti mostruosi. E secondo me è nostro compito come società, ma soprattutto nel mio caso anche come psicologo, cercare di indagare quali siano le dinamiche psicologiche che si trovano alla base di questo tipo di delitti. Allora, partiamo colporci una domanda. È vero che l'invidia sociale è in aumento? E se sì, perché è in aumento? Molti degli studi che si sono occupati di invidia sociale negli ultimi anni si sono focalizzati su due aspetti in particolare. Il primo è l'invidia sociale determinato dal gap economico, crescente tra ricchi e poveri. Quindi ci sono persone che hanno soldi e che riescono a creare, a generare sempre più soldi, e persone che invece non ne hanno e faticano a sbloccare questa condizione. L'invidia in questo caso nasce dalla sensazione di non avere le stesse opportunità e di essere ostacolati da fattori legati all'etnia, al genere o ad altri fattori, diciamo, di tipo pregiudizievole. Oppure di essere stati semplicemente sfortunati, ovvero di essere nati in una famiglia povera rispetto che in una famiglia ricca. Però l'invidia su cui mi voglio concentrare in questo video non è tanto quella legata agli aspetti economici, ma più in generale quella legata agli aspetti sociali. E questo tipo di invidia, come molti studi hanno dimostrato, origina soprattutto dal confronto sociale che avviene sui social network. È stata infatti rilevata una correlazione tra dipendenza dei social e maggiore rischio di sviluppare depressione proprio a causa dell'invidia generata dal confronto sociale. Altri studi hanno dimostrato come l'invidia non solo favorisce in modo diretto la depressione, ma anche in modo indiretto, attraverso il danneggiamento della resilienza psicologica e della percezione di supporto sociale. Con resilienza psicologica, penso che ormai lo saprete se ne parla spesso, si intende quella capacità, quella competenza dell'essere umano di gestire eventi stressanti, anche estremamente rilevanti nella nostra vita, quindi anche potenzialmente traumi, riuscendo a elaborarli positivamente e di conseguenza attivando delle strategie psicologiche che siano positive, funzionali al nostro benessere psicologico. Ebbene, alti livelli di invidia provocano anche un abbassamento, un danneggiamento di questa nostra competenza. Ciò avviene principalmente attraverso il danneggiamento di due aspetti fondamentali della resilienza psicologica. Il primo è l'auto-efficacia, ovvero la sensazione di avere il controllo sulla nostra vita e di riuscire a cambiare le cose, anche quelle negative. Le persone con una scarsa auto-efficacia sono quelle che tendono a passivizzarsi e quindi a interpretare ciò che gli accade come esclusivamente dovuto o principalmente dovuto a fattori esterni, al di fuori dal proprio controllo. In secondo luogo, l'invidia danneggia la resilienza psicologica danneggiando l'autostima. In altre parole, invidiare gli altri ci porta a percepirci anche come meno di valore, quindi a stimarci meno. Per quanto riguarda invece il supporto sociale, l'invidia riduce anche la sensazione di essere benvoluti e accettati dagli altri e anche in questo caso ovviamente innescando maggiori rischi depressivi. Da questo studio emerge anche un interessante dato legato al genere. Gli uomini infatti sembrano avere una maggiore resilienza psicologica, ma godere anche di un minore supporto sociale. A tal proposito abbiamo spesso parlato di gap empatico, ovvero il diverso grado di attivazione empatica suscitata da uomini e donne a livello sociale. Su questo però non mi voglio dilungare nel video e vi rimando eventualmente al mio libro dove ne ho parlato dettagliatamente. Ma quindi chiediamoci a cosa serve a livello evoluzionistico l'invidia? Perché l'essere umano ha sviluppato questo tipo di sentimento, di sensazione? Innanzitutto è importante fare un distinguo tra il costrutto di invidia e quello di gelosia, che spesso vengono utilizzati come sinonimi ma in realtà sono parzialmente diversi. L'invidia, come abbiamo capito, implica il desiderare qualcosa che qualcun altro ha ma che noi sentiamo di non avere. Al contrario, la gelosia consiste nel difendere, nel mantenere qualcosa che si sente di avere, che si pensa di avere e che, percepiamo, qualcun altro ci vuole sottrarre. Entambi questi sentimenti possono essere assolutamente deleteri, come sappiamo bene, ma originano da dinamiche parzialmente diverse. Il termine invidia viene utilizzato con un'accezione negativa nel senso comune, ma a livello scientifico viene operata una distinzione tra quella che è l'invidia benigna e quella che è l'invidia maligna. L'invidia benigna comporta un'attivazione che è mirata appunto a ottenere quello che è il nostro oggetto di desiderio, quindi a cercare di migliorare il nostro status, la nostra bellezza, a raggiungere più soldi. In questo senso, quindi, l'invidia potrebbe essere considerata come una fonte di motivazione, uno stimolo alla proattività, quindi all'attivazione. Secondo alcuni studi, infatti, l'invidia benigna risulterebbe positiva anche per quanto riguarda la gestione del rischio, cioè aumenterebbe la nostra tolleranza al rischio e ci permetterebbe di uscire maggiormente dalla nostra zona di comfort per soddisfare il nostro bisogno di crescita e il nostro bisogno di raggiungere l'oggetto del desiderio. Il fatto però di attivarci nel tentativo di ridurre il gap percepito tra la nostra situazione e quella degli altri, o appunto in generale per ottenere qualcosa che gli altri hanno e che noi no, non significa necessariamente che sia qualcosa di positivo per la nostra vita. Se non gestiamo questo meccanismo potremmo infatti avere delle ripercussioni negative e attivare i miei meccanismi psicologici potenzialmente disadattivi, come per esempio quello della FOMO, una situazione in cui abbiamo la sensazione di essere rimasti fuori, di essere rimasti indietro rispetto a una corsa verso il successo. E questo per esempio può essere deleterio, per esempio anche nel caso dell'ansia universitaria di cui abbiamo parlato spesso, no? L'invidia nei confronti di chi riesce a laurearsi prima di noi ci può portare a un'attivazione spasmodica, ossessiva, che comporta anche magari dei danni rispetto alla nostra vita. Però, come è facile intuire, l'invidia più pericolosa per noi e per gli altri è l'invidia maligna. Nel caso dell'invidia benigna il nostro obiettivo è quello di innalzare il nostro livello, quindi di migliorare la nostra condizione per raggiungere il livello degli altri. Per quanto riguarda invece l'invidia maligna, l'obiettivo diventa quello di abbassare gli altri per riportarli a essere percepiti al nostro livello. E questo può comportare, per esempio, nei casi estremi anche delle aggressioni fisiche, ma può comportare, per esempio, anche il furto, quindi sottrarre qualcosa che noi desideriamo agli altri in modo da appropriarcene senza fare tutto il percorso necessario per riuscire a raggiungere l'oggetto del desiderio. Come è ovvio che sia, ciò è molto rischioso per la nostra vita ed è, appunto, estremamente antisociale rispetto a una convivenza nella società. Ma l'invidia maligna può portare più facilmente anche all'immobilismo, quindi alla sensazione che qualunque azione noi potremmo fare per cercare di colmare questo gap tra noi e gli altri sarà un'azione inutile e quindi l'unica cosa che ci rimane da fare è rinunciarci. Oppure convincerci che non ci interessa, come nel caso della volpe che non arriva all'uva. Per quanto riguarda l'online, quindi lo spazio per eccellenza dove avviene il confronto sociale e appunto dove si genera l'invidia, alcuni autori hanno identificato tre strategie che si collegano a quelle che vi ho appena citato ma che vengono descritte più nel dettaglio, in modo più concreto. La prima appunto consiste nell'autoarricchimento, ovvero nel cercare di mostrarsi più belli, più simpatici, più di successo. E questo meccanismo fa sì che quando noi vediamo una persona, non so, per esempio estremamente bella, quello che ci verrà da fare è cercare di migliorare la nostra percezione fisica quindi attraverso, non so, filtri, attraverso ritocchi chirurgici, attraverso l'allenamento anche per certi versi ma comunque il nostro obiettivo sarà quello di migliorare la nostra percezione fisica per colmare questo gap che percepiamo con gli altri. Il problema è che questo meccanismo ovviamente è un meccanismo che rischia di essere a somma zero cioè dove ci sarà qualcuno che riuscirà effettivamente a innalzarsi sempre di più, a superare l'asticella che qualcun altro pone e chi invece vedrà questa asticella sempre più lontana è talvolta irraggiungibile. Ed è anche per questo che, dallo studio che vi ho citato, emerge che chi applica questo tipo di strategia di autoarricchimento come gestione dell'invidia lo fa spesso per motivi individualistici. E infatti questo tipo di meccanismo è più presente nelle società individualistiche rispetto a quelle collettivistiche. Ciò ci suggerisce che in realtà non è un meccanismo così positivo. Magari lo è per noi stessi ma non lo è a livello sociale. Il secondo meccanismo attivato più spesso online ma anche direi offline per cercare di gestire e ridurre la frustrazione derivante dall'invidia è il gossip, o meglio il pettegolezzo, o meglio ancora lo sparlare dietro agli altri. In un'ottica evoluzionistica lo sparlare alle spalle rappresenta una modalità per danneggiare qualcun altro, qualcuno che magari invidiamo, e riportarlo a livello di percezione al nostro livello. Quindi una sorta di sabotaggio senza però avere a che fare direttamente con la persona sabotata. Da alcuni questa pratica è considerata altamente immorale e da evitare sempre e comunque senza nessun tipo di giustificazione. Altri invece la considerano una pratica estremamente utile per salvaguardare diverse relazioni sociali senza andarle a rompere definitivamente, ma riuscendo comunque a gestire la frustrazione che magari deriva da un'incompatibilità o da delle incomprensioni che avvengono tra persone. Di questo non voglio parlare in questo video, ma se vi interessa l'argomento ci dedicherò a un podcast su Patreon, quindi iscrivetevi. Nel mondo online però probabilmente, anzi direi quasi senza dubbio, il meccanismo più diffuso che inneschiamo per cercare di ridurre l'invidia che proviamo nei confronti degli altri è l'hating. Questo capita soprattutto nei confronti degli influencer, ovvero di persone che, per bravura o per altri meriti, riescono a ottenere una maggiore influenza all'interno degli spazi sociali online. E questa influenza porta spesso a un'idealizzazione, porta spesso a un grande numero di supporter, ma porta anche a tanto odio, soprattutto da parte di quelle persone che magari hanno in quell'immagine un elemento di generazione dell'invidia. Sì, perché qua non parliamo di critica, ovviamente criticare una persona è sempre legittimo, ma se parliamo di odio quasi sempre dietro c'è dell'invidia. E quindi in questo caso, diciamo, la gestione dell'invidia avviene attraverso l'insulto, l'aggressione che può avvenire privatamente tramite un messaggio privato o può avvenire anche sotto i commenti di un video pubblicamente. La terza strategia invece utilizzata online ma anche offline è l'evitamento. Quindi nel momento in cui io mi rendo conto che utilizzare i social mi genera costantemente invidia e che non riesco in alcun modo né in senso positivo, cioè innalzando la mia condizione, né in senso negativo, cioè abbassando quella degli altri, colmare questo gap che percepisco, l'unica cosa che mi rimane da fare è quella di fuggire, ovvero staccare i social, utilizzarli di meno e cercare di riportare il mio grado di invidia a un livello tollerabile. Questa strategia, come le altre, può essere sia adattiva che disadattiva. Quello che fa la differenza ovviamente è l'approccio psicologico con la quale si attiva e quali sono le finalità, gli obiettivi. Perché fuggire completamente da un giudizio sociale o da un'ansia sociale può comportare anche un escalation che ci porterà sempre di più verso l'isolamento. Ed è quello che succede per esempio con gli chikomori. I chikomori non si isola già con l'idea di rimanere da solo, ma continuando a evitare tutte le fonti di giudizio che percepisce nella società, sia online che offline, si ritrova spesso magari a essere completamente isolato. Quindi come sempre bisogna trovare un equilibrio anche in questo tipo di strategie di fuga, altrimenti si innesca una fuga perenne da tutto e da tutti. Ma quindi cosa si può fare per ridurre l'invidia? Perché tutte le strategie che abbiamo descritto sembrano in qualche modo pericolose per noi stessi o per gli altri. E il punto, secondo me, è che l'invidia è di per sé un sentimento antisociale. Che se noi proviamo in misura moderata e saltuariamente non c'è niente da preoccuparci. Ma se noi la proviamo in maniera estrema, forte e costantemente nella nostra vita, allora probabilmente c'è un problema nella nostra interpretazione della realtà. Qualcosa su cui dobbiamo lavorare seriamente. Io infatti non apprezzo molto la distinzione tra invidia benigna e invidia maligna operata da diversi studiosi, come abbiamo visto. Perché secondo me è una distinzione fuorviante rispetto a quella che è la vera natura dell'invidia. Che non significa prendere spunto o trarre stimolo dai successi altrui. L'invidia ha sempre una componente di passivizzazione e di antisocialità, secondo me. Per quanto piccola questa componente c'è sempre. Perché ci porta sempre a mettere i nostri interessi egoistici prima di quelli degli altri. E ci porta per esempio a pensare di essere sfortunati, mentre gli altri sono tutti fortunati. Quindi sempre attivando un meccanismo di passivizzazione, di esternalizzazione della colpa rispetto alla nostra condizione. Oppure l'invidia scaturisce da un'idealizzazione degli altri, di ciò che hanno gli altri. Quindi quello che noi desideriamo non è qualcosa che realmente ci interessa, non è qualcosa che realmente avrebbe un impatto positivo sulla nostra vita, ma è qualcosa che desideriamo in modo infantile. Perché pensiamo che tutto ci sia dovuto, oppure perché pensiamo che siccome qualcun altro lo ha, lo meriteremmo anche noi. Dunque dal mio punto di vista l'invidia è di per sé un meccanismo disfunzionale e pericoloso, che nella situazione ideale andrebbe eliminato completamente. Anche se appunto non dobbiamo colpevolizzarci, allarmarci se saltuariamente e in modo moderato la viviamo, perché è qualcosa di fisiologico, è qualcosa che ha a che fare con il nostro modello di funzionamento sociale, che è legato per forza di cosa alla competizione anche individualistica. Il modo migliore per raggiungere qualcosa che ci fa stare bene è cercare di non considerare quello che hanno gli altri. Lo so che è un meccanismo, quello del confronto sociale, che si attiva istintivamente, ma razionalmente dobbiamo avere la forza di concentrarci su quello che è importante per noi, senza farci distrarre da falsi miti di successo o di bellezza. Ognuno di noi deve trovare il proprio equilibrio, il proprio modo per perseguire il benessere psicologico, che per forza di cose sarà diverso da quello degli altri. Al netto di questo consiglio individuale su come gestire l'invidia, c'è sicuramente anche un piano sociale su cui intervenire, perché non possiamo ovviamente far finta di niente, ci sono delle disparità, delle ingiustizie a livello sociale che è giusto cercare di contrastare. E tra queste ingiustizie c'è una crescente emarginazione di tutte quelle persone che sono considerate diverse, che per qualsiasi motivo, spesso legato al carattere, alla propria personalità, non riescono a integrarsi nel tessuto sociale e che in qualche modo vengono dimenticate, abbandonate. Qui arriviamo al tema della solitudine, di cui ho già parlato in un video passato che è andato molto bene e che appunto proprio per questo ho deciso di riprendere in un video che pubblicherò probabilmente settimana prossima. Quindi se vi interessa l'argomento, mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti, ditemi la vostra anche sui contenuti di questo video e vi aspetto se volete su Patreon. Grazie mille dell'ascolto, alla prossima! Grazie mille dell'ascolto!